Faccio questo video per informarvi che a giorni inizierà la quarta edizione del corso Clima e Cambiamenti Climatici, tenuto da me, che faccio parte del Dipartimento di Fisica dell'Università di Torino. Il corso è aperto a tutti gli studenti di laurea triennale dell'Università di Torino, esclusi i fisici, che invece hanno un altro corso riservato tutto per loro, chiamato introduzione al sistema climatico. Questo corso può essere inserito nel piano carriera di tutti gli studenti come corso a scelta oppure come altro insegnamento, ma anche gli studenti interessati provenienti da altri atenei sempre nell'ambito della laurea triennale lo possono seguire e poi farselo riconoscere come corso esterno. Chi invece non fa parte dei precedenti gruppi può comunque seguire le lezioni del corso senza sostenere l'esame. Le lezioni saranno svolte in aula, presso due aule del Campus Luigi in Audi dell'Università di Torino, ma saranno anche disponibili su streaming, piattaforma WebEx, oppure come videoregistrazione sulla piattaforma Moodle con i dettagli che saranno messi sul post che metterò in calce nelle informazioni di questo video. Di che cosa parleremo in questo corso? Anzi, prima vi devo dire quando inizieranno le lezioni. Le lezioni inizieranno martedì prossimo e si svolgeranno tutti i martedì fino a fine maggio, con due eccezioni ad aprile, martedì dalle 16 alle 18. Per quanto riguarda gli argomenti, ovviamente è un corso che si è intitolato Clima e Cambiamenti Climatici, quindi forniremo le basi del sistema climatico terrestre spiegando da cosa è composto, come funziona, quali sono i processi di interazioni e poi seconda parte Cambiamenti Climatici. Daremo un'idea di come è variato il clima terrestre nel passato, di come sta variando oggigiorno e di come è previsto che vari nel futuro. Faremo anche un cenno alle tecniche che permettono di ricostruire il clima nel passato, a come si riconosce il clima presente e a come si può ipotizzare come varierà il clima nel futuro. Durante il corso daremo anche dei cenni informativi per quanto riguarda delle tecniche di uso nella scienza, come per esempio l'analisi dei grafici, la statistica più semplice possibile, ma il tutto verrà comunque spiegato in maniera tale che sia comprensibile non soltanto a studenti con un background scientifico notevole, ma anche a studenti che abbiano deciso di seguire un percorso umanistico e che quindi non siano in possesso di diciamo di un background scientifico sufficientemente profondo. Questa è una mia sfida che però negli anni scorsi posso permettermi di dire, a seconda del giudizio che ho ottenuto dagli studenti, che è andata bene. Quindi il contenuto del corso risulta comprensibile abbastanza da tutti. Le ultimissime istruzioni, come partecipare al corso, chiaramente la modalità preferenziale è di venire in aula, perché così mi vedete e vedete direttamente le slide, ma per chi non potesse recarsi al campus in Audi perché è troppo lontano o abita in altre città, c'è la possibilità della lezione in streaming, oppure di seguire le videoregistrazioni che saranno messe con qualche giorno di ritardo, perché a volte è necessaria una rielaborazione del contenuto, ma comunque saranno posizionate nella directory di Moodle. Partecipate numerose, vi aspetto tutti. A presto!